buongiorno benvenuti alla rassegna stampa oggi proprio in questo secondo mi stanno chiamando ma chi se ne porta non sarà uno che è connesso in diretta con la rassegna stampa il tema della giornata di oggi qual è la figuraccia dell'italia in europa e il fatto che l'italia sia isolata in europa l'ho già sentito questo refrende vuol dire che quando c'è un governo italiano che non è connesso a me non piace definire di poteri forti perché una minchiata non esistono poteri forti l'italia ci sono una somma di poteri deboli ma quando non è connesso con le persone carine beh insomma c'è sempre un problema perché le persone carine non possono dire questo governo non piace alle persone carine questo governo non piace all'europa e questa è la piega secondo me incredibile che ha preso il corriere della sera che avrebbe molti motivi per criticare questo governo ma non affronta i motivi secondo me sostanziali ma ci attacca le pippe come quelle fatte ieri da mario monti che se io fossi un po attento non gli farei fare come posso dire di diorista il corriere della sera ma questo è il mondo per cui matteo renzi file il film maker per mediaset e quindi insomma se renzi fa i documentari per per mediaset e monti può certamente fare come possiamo dire i fondi spiegando che l'italia sta perdendo una grande opportunità in europa ma la cosa che mi fa impazzire è che ripeto io c'ho delle critiche mostruose nei confronti di questo governo poi ne parleremo di orban e la sua illiberalità ma il punto è un altro quando il corriere oggi ci spiega che ottinger che è il commissario europeo al bilancio dice due cose ma solo una le cita e cioè l'italia è una è una farsa perché non è vero che voi date 20 miliardi all'unione europea voi da siete contributori netti per 3 miliardi e nelle prime cinque righe della prima pagina del corriere della sera cioè l'italia non facesse la fenomena perché in europa ora ha minacciato di approvare il bilancio europeo ma in realtà l'europa da molto poco 3 miliardi netti comunque sono tanti ma non è molto e non è quanto dice il governo tra l'altro poi ottinger andare a leggere esattamente quello che dice ieri dice anche un'altra cosa e cioè che l'europa fino a due anni fa aveva lasciato completamente solo l'italia nell'affrontare il tema dell'immigrazione quindi probabilmente la cura minniti e la cura attuale salvini cioè quella di mettere al centro del dibattito la questione di immigrazione in europa insomma è un grande tema ma io allora vado a prendermi il giornale cartaceo come si chiama corriere della sera e questo corriere della sera è stato fatto ieri non cinque cazzo di anni fa ieri va bene oggi io sento il commissario europeo ettinger che dice che noi abbiamo dato siamo contributori netti di 3 miliardi questo il corriere della sera pagina 3 di ieri senza che riusciate a vederla esattamente questa è una tabella sul corriere della sera di ieri va bene questa tabella dice chi dà e chi riceve da brussel oggi fubini tutti i fenomeni a dire c'ha ragione ettinger in fondo l'italia non facesse tanto la fenomena perché dall'europa non becca niente anzi da pochissimo all'europa eccetera chi dà e chi riceve da brussel l'italia nel periodo 2010 2016 c'è scritto qua sul corriere ha dato 37 virgola 8 miliardi di euro facciamo 38 perché vogliamo essere diciamo più generosi con noi stessi quindi negli ultimi sei anni l'italia è stata contributrice di 38 miliardi non 3 38 miliardi diciamo che il commissario ettinger forse faceva un calcolo annuale ma 3 miliardi all'anno per sei anni fa 18 38 miliardi questa tabella qua cari amici del corriere della sera avete pubblicata voi caro fubini l'hai pubblicata sotto il tuo pezzo ieri quindi oggi come fai a dire a utilizzare i dati del commissario ettinger quando ieri hai spiegato i tuoi lettori che invece noi abbiamo dato 38 miliardi questo vuol dire essere populisti questa è una fake news che cacchio è allora vai a controllare come ci hanno spiegato quelli del codice deontologico della straminchia dell'ordine giornalisti che fa soltanto riunioni dei codici deontologici per dare a noi due tre punti e per non essere tolti dall'albo chi è che dà i dati al corriere della sera che ieri pubblica pagina 3 e che oggi sembrano completamente diversi da quelli di ettinger ma saranno veri tutti e due guardate vado a vedere mi metto fonte elaborazione corte dei conti su dati commissione europea ecco qua allora la corte dei conti sui dati della commissione europea dice che noi abbiamo dato negli ultimi sei anni 38 miliardi il commissario europeo oggi pompato da tutti quanti grandi del correre della sera ci dicono che noi abbiamo dati tre nell'ultimo anno evidentemente tre per sei diciotto chi ha ragione lo chiedo chi ha ragione corriere ieri corriere ieri porca giuda ieri il corriere ci ha spiegato che noi abbiamo dato 38 miliardi e poi dici che la gente diventa populista combattiamoli ma non ci vuole molto basta leggere oggi l'intervista di maio sul fatto e ti vengono e ti viene il sangue al cervello perché capisci che quando a di maio gli chiedono una domanda banale semplicemente ben fatta dal giornalista del fatto quotidiano il giornalista del fatto quotidiano dice sì sì togliete fate fuori autostrade perché avete deciso di far fuori autostrade scusi cosa ne facciamo dei 19 mila dipendenti di autostrade e di maio risponde adesso ve la leggo perché me la sono segnato no di maio risponde cosa risponde di maio adesso ve lo dico dei 19 mila dipendenti c'è te che c'è la famiglia no ma non c'è problema beh i dipendenti dell'autostrade ma figurate voi non è un problema verranno tutti quanti tutelati no scusami scusami tu togli la concessione autostrade e poi mi dici che ci sono 20 mila persone che potenzialmente come le 15 mila le 20 mila dell'ilba per quella cazzata di sebastio e di delle follie noi questi 20 mila che ne facciamo verranno tutelati chi le assume la cdp chi le assume fin cantieri poi voglio chiedere un'altra cosa toninelli e di maio oggi spiegano litigando con toti e toti per fortuna che c'è per fortuna che c'è che è il commissario speciale che è stato fatto a genova e di forza italia rispetto a questi matti che cosa dice toti facciamogli rifare alle autostrade la la il ponte l'anno poi vedremo colpevoli non colpevoli lo facciano subito non perdiamo tempo no qua siamo col magistrato non c'è fretta con quelli lo dicono di fare a fin cantieri allora io voglio dire la penso semplice perché sono un populista nella mia testa ma proprio populista qua proprio populista un cretino sono allora secondo voi che cacchio c'entra cassa depositi e prestiti che è una società finanziaria in cui il capo ha fatto il cfo proprio di fin cantieri cioè l'uomo dei numeri e un'azienda che fa navi per fare un ponte io io me lo chiedo me lo chiedo poi certo ci sarà sicuramente una grande expertise di bono e di fin cantieri controllata al 78 per cento dello stato nel fare ponti fanno ponti in ogni istante io vedo ponti tutti fatti fin cantieri no vedo in giro ponti io sapete che cosa faccio domani invece di fare la zuppa mi metto a fare transatlantici che cazzo me ne frega a me vado dalla cdp cioè dal risparmio postale dico senti non è che mi dai una decina di miliardi che mi metto a fare un transatlantico posso farlo invece di fare tenuto rasciatano che fa olio ex allergia faccio transatlantici mi faccio dare i soldi al cdp ma perché fin cantieri di fare un ponte me lo chiedo solo perché dello stato è solo per questo che gli facciamo fare un ponte e secondo voi è buono che controllerà il ponte o si rivolgeranno a qualcuno che fa ponti spero che si rivolgano a qualcuno dunque pur di non farlo fare da strada perderemo anni e lo faremo fare allo stato io la trovo straordinaria va bene facciamo fare il ponte a bono questo ce lo spiega toninelli perché la logica sempre fantastica da tweet e beh insomma se questi hanno distrutto il ponte non possono rifarlo e la logica c'è è un bellissimo tweet avrà un sacco di like molte persone saranno d'accordo a me non me ne fotte nulla non me ne fotte nulla del fatto che l'hanno distrutto devono andare in galera se sono obbligati se sono responsabili bisogna pagare miliardi di penali gli togliete pure la concessione ma nel frattempo gli volete far mettere a posto quel casino che c'è a genova o stiamo qua a fare i tweet no mi sembra molto più ragionevole farglieli fare ma toninelli questo non ce lo vuole dire e non ce ne occupiamo nel frattempo oggi oltre all'intervista di di maio guardate l'intervista di maio è straordinaria perché sul fatto quotidiano e questi si occupano ancora dell'europa del commissario ettinger basta leggere l'intervista di maio oggi dice ma sai se per fare degli investimenti possiamo anche sforare il 3 per cento allora tu utilizzi il bonus per fare investimenti e per sforare il 3 per cento e io dico cosa buona e giusta se vuoi fare dei grandi investimenti per questo paese io direi la tav la gronda la tap tutti investimenti più o meno finanziati che lui però non vuole fare chissà quali cacchio sono i loro finanziamenti tu vuoi sforrare il 3 per cento per fare investimenti sapete che cos'è il problema che sforerà il 3 per cento per fare gli investimenti che ti avrebbe pagato autostrade e questa è una cosa incredibile ma faglielo fare autostrade così non sfori il 3 per cento o meglio lo sfori per altri investimenti che tanto non ti può finanziare autostrade ad esempio quelli della grande velocità che sarebbe dovuto concludere no non si fanno quelli ma anche le piccole velocità anche le manutenzioni anche i pendolari quello che volete va beh insomma sfondiamo per il 3 per cento per gli investimenti fatta questa premessa poi dopo continua l'intervista dice però faremo anche il reddito di cittadinanza e il giornalista giustamente dice ma non dovete fare prima il centro degli impiego e poi il reddito di cittadinanza no prima c'è il reddito di cittadinanza allora noi facciamo che oggi si chiama reddito minimo allora che cosa succede che lui ci spiega il titolo reddito minimo nel 2019 anche violando il 3 per cento e questo è il titolo quindi io capisco che violo il 3 per cento per il reddito minimo poi vado dentro e dico se per fare investimenti serve violare il 3 per cento violeremo il 3 per cento quante cacchie di volte lo violiamo sto 3 per cento per fare gli investimenti in reddito minimo babbo natale la strega voglio dire uno prende l'intervista di cose e si pone dei problemi non in una logica europea in una logica di buonsenso siccome i soldi non nascono sulle piante ma sui nostri soldi sono nostri quattrini sono nostre entrate sono nostre tasse se noi utilizziamo le tasse per fare tutta sta roba qua la volete affidare a toninelli a di maio a fin cantieri per fare un ponte si chiama fin cantieri ma non si occupa dei cantieri per le opere di lì si occupa delle navi io vorrei fare un transatlantico vorrei fare un crowdfunding come piace a voi datemi un euro voglio arrivare a 5 6 miliardi per fare delle belle navi da crociera navi da crociera che le chiamiamo la zuppa di porro affondano qua capito al porto dopo tre metri sperando che questa non sia la fine che farà il ponte della straminchia fatto da fin cantieri invece di farglielo fare subito a questi ce n'avete di argomenti invece di che cosa ci occupiamo oggi del fatto che salvini si incontra con orban in prefettura ci sono tutte le manifestazioni di quei geni del pd contro la manifestazione contro l'incontro tra salvini e orban borgonovo oggi sul libero ma non solo lui tanti altri giornalisti ma borgonovo sul libero si limita a mettere in fila un poio di considerazioni primo è tre volte che gli ungheresi lo leggono tre sistema democratico l'ultima volta 49 per cento si è preso orban 49 per cento manco la madonna pellegrina in italia mai preso il 49 per cento terza cosa è dello stesso partito di tagliani questo in europa star coi popolari sta con lo stesso partito di tagliani tagliani lo vedete no con la cravatta sempre la giacca blu la camicia bianca vi sembra un pericoloso sovversivo certo orban pensa cose completamente diverse ai nostri interessi completamente lui non vuole che si superi dublino a una posizione nazionalista non vuole la redistribuzione degli immigrati siamo perfettamente d'accordo ma tu non puoi fare una manifestazione per la qualità del sistema democratico italiano se il vice premier si incontra con orban e dove si incontra in una sede oscura in una caverna di viale manzoni che non esistono più o in prefettura in prefettura come normale che ci si incontri no anche questo è uno scandalo io le trovo fantastiche che sia uno scandalo vedersi in prefettura con uno che fa parte del partito popolare europeo che è stato le voto tre volte che ha preso ultima volta il 49 per cento vabbè ditemi voi facciamo così ci vorrebbe una lista da parte del corio della sede dei politicamente intellettuali giusti in cui chi si può incontrare incontriamo qualche leader palestinese sì quelli si possono incontrare incontriamo corbyn che è andato ai funerali dei di settembre nero ai sì corbyn sì perché un socialista incontriamo sanders un altro diciamo socialista americano sì beh quello è perfetto incontriamo asia argento beh sì quella del mito a no però magari anche lei però ha avuto ha fatto sesso l'altra cosa stupenda oggi del mito è la mafioletti lo ricorda oggi sul coriore della sera in un pezzo di coriore della sera io lo trovo fantastico chi è che ha denunciato asia argento dicendo che lei aveva effettivamente fatto sesso con un mino venne chi è che ha pubblicato sul sito scandalistico gli sms che si erano scambiati in cui asia argento ammetteva di aver fatto sesso con un minorenne la migliore amica di asia argento e sua collega nella battaglia di mito una si dice gender fluid non lo so dire bene cioè una che ha un sesso fluido e che con lei ha fatto questa battaglia contro le discriminazioni sessuali anche perché con lei è difficile discriminare non riesci mai a capire cioè come la prendi la prendi male ecco e però come la prendi e la prendi come dice oggi asia argento sei un mostro e perché un mostro perché asia argento le confesse di aver fatto sesso con un minorenne lei lo manda a un a un sito internet scandalistico asia argento le chiede via sms perché l'hai fatto lei dice perché io combatto per la giustizia e lei gli risponde sei un mostro voi con queste persone volete avere a che fare brava silvia ma che gente è ma che cazzo di gente noi veramente vogliamo affidare diritti civili del futuro noi veramente vogliamo affidare i diritti di libertà a asia argento e alla gender fluid gender fluid coi capelli corti fidanzata con un uomo e che denuncia l'amica e poi quell'altro che invece gli vende le foto a 29 io direi che su questo l'unico commento che sarebbe da fare è mito oggi sapete che cos'è un insulto mito è un insulto non c'è nulla di peggio che dire una persona mito c'è tutto attaccato con l'hashtag quando tu senti quella roba di scappare andiamo avanti vabbè il core della sera si interroga sulla fonda profico profico nel senso che ci sarebbero all'interno del movimento 5 stelle molti che sono contrarie alla linea di di maio di salvini e alla fine sono quei pezzi in cui si dice tutto niente ma il tema è far capire che il movimento 5 stelle in questo direi in maniera un po improvvisata sia in pericolo di scissione cosa che non lo è affatto l'ultima questione che vi voglio segnalare è la vicenda della chiesa tirata fuori da monsignor viganò con una lettera pubblicata dalla verità e qui ci sono varie posizioni io mi limito per la mia ignoranza totale in materia e vi dico anche perché mi annoia molto questa vicenda ma moltissimo però è una delle grandi scoop mondiali da fare quindi non mi permetto di giudicarlo se non di farne una piatta rassegna stampa viganò dice la seguente cosa arcinunzio cioè ambasciatore del papa negli stati uniti dice c'è stata una lobby gay in vaticano che ha coperto un cardinale che è stato accusato di abusi sessuali nei confronti di anche ragazzi bene questo è stato cacciato promuovendolo sapete una tipica attività diciamo delle grandi istituzioni quindi l'hanno cacciato promuovendolo da francesco da papa francesco nel 2011 e poi addirittura papa vergoglio l'attuale papa gli ha tolto circa un anno fa la porpora cosa mai successa togliere a un principe il suo principato non è una cosa semplicissima questi sono i fatti quindi il papi il l'innunzio vaticano dice guardate che qui c'è uno scandalo che è stato più o meno coperto da due papi lo scandalo evidentemente anche un po' certificato dall'atteggiamento dei due papi che prima l'hanno promosso per rimuoverlo e poi lo hanno addirittura tolto la porpora poi ci saranno delle indagini in corso quali sono le posizioni mario giordano sulla verità il giornale che ha tirato fuori la vicenda dice sono ci stanno trattando tutti come se fossimo dei mafiosi abbiamo tirato fuori solo una notizia che scandalo il fatto che noi tiriamo fuori gli scandali quindi giordano rivendica il suo scoop e l'atteggiamento dei giornali e dei vaticanisti che è la cricchetta come quella dei quirinalisti mettiamola così mettiamola come la mette giordano e cioè la cricchetta ce l'ha con noi perché abbiamo tirato fuori uno scandalo che ha smosso le acque che devono essere rimanere silenziosi del vaticano il foglio va più o meno invece è vaticanista senza prove tutto quello di cui parla vigano anche se con molti dettagli fango sostanzialmente sulla chiesa l'avvenire la prende il giornale dei vescovi italiani sotto un altro profilo con il fondo dell'avvenire di oggi si parla di questo parroco don francesco mi sembra che gira e che viene insultato dal popolo sei un pezzo di m gli dicono va da una parte va dall'altra tutti lo insultano insomma la difficile vite del pastore che non ha nessun scheletro nell'armadio ma che fa anche probabilmente del bene ma che viene insultato toninei tornielli l'ex vaticanista del giornale oggi al fatto al foglio dice il complotto contro il papa posizione simile ma un po più forte rispetto a quella del foglio quindi da una parte la verità dall'altra foglio toninelli cioè abbastanza vero che sono tutti contro lo scoop bisignani sul fatto lo vedrete più sul tempo lo vedrete più tardi anche sul mio sito su nicolaporro.it sostiene che il signor vigano la destra conservatrice del della curia che ce l'ha col papa e sarebbe la asia argento del vaticano un titolo che simbolizza bene il pensiero di bisignani quindi si ha anche in questo caso un grandissimo scontro populismo establishment e su questa dicotomia tipica dei nostri tempi chiuderei questa rassegna stampa ricordandovi due cose sito nicolaporro.it dal 17 settembre parte quarta repubblica su rete 4 e dal 18 settembre parte matrix su canale 5 quindi abbiamo un sacco di cose da fare per quello mi faccio un sacco di vacanza perché voglio arrivare più forte che mai per un impegno autunnale che sarà davvero difficile e che sarà tutto da raccontare ciao